Per i funerali dei coniugi Mauriello di San Martino Valle Caudina bisognerà attendere la prossima settimana. In questo periodo, a causa delle ferie, è stato difficile anche trovare un medico legale a cui affidare l'incarico. Situazioni queste che rendono le tragedie ancora più drammatiche. Alla fine comunque è stato stabilito che l'autopsia si effettuerà martedì mattina alle 9.30. L'esame sarà fatto solo sul corpo di Nicola Mauriello, che era alla guida dell'autovettura. È probabile che i funerali si svolgeranno stesso il pomeriggio. Se ciò non sarà possibile, le sequie saranno spostate a mercoledì mattina. Per il giorno dei funerali, il sindaco di San Martino Valle Caudina ha disposto il lutto cittadino, interpretando il sentimento che in queste ore accomuna l'intera comunità. La scorsa notte, intanto, è tornato in paese anche il maresciallo dei carabinieri, marito di Carmelina, figlia della coppia, che era in missione in Africa. Il maresciallo, fratello del sindaco Pasquale Pisano, informato della tragedia, ha infatti immediatamente dato il via all'iter burocratico per poter far rientro in Italia e raggiungere la sua famiglia, fortemente provata dal dolore per l'improvvisa scomparsa di Nicola Mauriello e Antonetta Parente, i due coniugi che nel primo pomeriggio di mercoledì stavano percorrendo a bordo di un SUV la Telesina, quando per causa che restano ancora completamente da chiarire, si sono scontrati frontalmente con un camion. Per definire le cause del sinistro mortale, qualche indicazione importante potrebbe arrivare proprio dall'autopsia sul corpo del 63enne, che era alla guida dell'auto.